E ci siamo, ancora un match e poi ci sarà più una serata. Il match pro è uno di quelli importanti, usciamo dal match di K1 e ci tuttiamo del successivo. Gli ispiranti, dalla Kovac Gym di Pordenone, professionista di kick e di box, è stato il campione europeo di kick, Emanuele De Profetti! Emanuele De Profetti! E all'anno rosso, a sfidare Emanuele De Profetti, dal Fight Club di Regione, è stato il campione italiano di K5, Elia Filippini! Emanuele De Profetti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.